prima o poi attenzione ragazzi per chi volesse sostenere il canale lo può fare solo ed esclusivamente gratis con un click e attivando la campanellina ora mi copiano tutti tutti diano le iscrizioni sono gratis vabbè non ci sono problemi premetto che premetto che ovviamente dal titolo si capisce quale sarà l'argomento premetto che deferminati signori verso l'inter stanno instillando con un metodo scientifico tra l'altro senza preparazione e documentazione perché ieri mi sono imbattuto con dei personaggi su x che non sapevano nemmeno che deloito dopo tre anni doveva cambiare cioè loro non hanno nessuna base proprio secondo me per nemmeno per inventarsi cose che non esistono quindi questi signori stanno instillando con un metodo scientifico dei dubbi assurdi su cose che non esistono parlo continuità aziendale dell'inter l'inter non doveva iscriversi erano loro quelli non si dovevano iscrivere non noi fino a prova contraria perché fino a prova contraria hanno ammesso loro i reati non noi e loro vogliono capito loro cosa vogliono fare vogliono instillare dei due dei dubbi assurdi e inverosimili e capito e anche se da un punto di vista di preparazione di documentazione non è che sono deboli sono quasi imbarazzanti perché poi andiamo subito al punto attenzione alla juventus e conflitto di interessi o la stone villa attenzione non è una robetta da nulla qui puoi fare un esposto parlo con te m puntolini puntolini tuo nome con la m qui puoi fare un esposto tranquillamente come quando vuoi come puoi fare un esposto per lo scudetto juve 2019 per farlo dare al napoli perché il campionato è stato alterato il patteggiamento lo dice non lo dice giuste 10 ma qui puoi fare un patte qui puoi fare tranquillamente sia un patteggiamento patteggiamenti falli fare a loro qui puoi fare un esposto perché attenzione lo dico prima anche se l'ho scritto loro si attaccano a giulini loro si attaccano a giulini ma anche qui purtroppo eh l'ho scritto anche in community la settimana scorsa giulini possiede azioni dell'inter questi sono dei poveri ignoranti ecco cosa sono capito perché invece di perdere tempo l'ho detto nel dire stupidaggini se l'argomento interessa consiglio un corso serale per certi personaggi l'ho scritto anche ieri su twitter addirittura gente dal che ti danno ignorante quando non sa nemmeno di cosa parla consiglio un corso serale se interessano questi argomenti ma anch'io ho imparato tantissimo da questi ragazzi no non posso essere al loro livello lo riparto per l'ultima volta andando poi al conflitto di interessi della juventus attenzione perché questo potrebbe essere un match ball per radiarli definitivamente poi vediamo dopo cosa succede eh non sarò io a giudicare giulini nell'inter ha una partecipazione infinitesimale infinitesimale quindi ehm del capitale sociale dell'inter te l'ho già detto il divieto il divieto che c'è le leggi che ci sono riguarda situazioni che possono determinare un controllo tipo quello della della stonvilla in exor quella è una situazione di controllo non giulini che c'ha lo zero virgola zero zero poi ci spiegassero come fa giulini mentre ci devono spiegare come non lo fa quello della stonvilla come fa giulini con uno zero a realizzare un controllo sull'inter perché fino a prova contraria eh il signor eh il signor e l'abbiamo studiata stanotte questa roba qua il signor sauris siede al tavolo delle decisioni importante come se siede quindi siedono nel medesimo organo il signor della stonvilla e quelli di exor ha un ruolo importante a differenza di giulini per lo sviluppo di exor quindi pianificano tutte le loro strategie non sto parlando in caso di douglas costa dalla stonvilla ma pianificano tutte le strategie di exor insieme decidono insieme totalmente diverso da quello di giulini 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 ha ventimila euro di azioni questo sia dal tavolo e decide attenzione questo è un conflitto di interesse bisogna vedere come è un conflitto di interesse qui c'è una partecipazione capitale in questo caso tra stonvilla e juventus eh no c'è una partecipazione di capitale di piccolo zero virgola c'è la giulini in questo caso invece c'è un organo di supporto exor per condivisione opportunità investimenti con a capo il signor Elkan mi capisci mi sono spiegato mi sono spiegato o come ho visto scrivere a qualcuno mi sono saputo spiegare attenzione qui puoi fare non un esposto ne puoi fare dieci su questa roba qua perché poi tra l'altro io vorrei aprire anche una cosa questa è solamente una mia curiosità io non sto accusando nessuno ma douglas lewis che è un giocatore c'ha mezza primer dietro che costa settanta milioni come fa andare alla juve a venti milioni più due ragazzi che non si onorano di cui mi sembra strano tutto qua non sto accusando nessuno ma un giocatore mi dà glas costa e fare settanta milioni la juve lo prende con venti milioni e due bambini mi sembra strano allora allora il loro giochino sta per crollare perché l'iter è in totale legalità e noi a differenza di tanti tifosi della juve non parlo di uno solo parlo in generale a differenza di tanti di loro noi possiamo dimostrare siamo in grado di dimostrarlo abbiamo le competenze per dimostrarlo e abbiamo la maniera di certificarlo come ha fatto il professor bava perché questi si scordano il professor bava ha certificato i conti dell'inter e ha detto che sono tutti a posto a parte che i psicopatici si inventano che bava ha detto quello perché poi il sistema a parte di psicopatici parliamo la gente normale e non a chi offende le donne perché io mi dissocio da chi offende le donne bisogna tutelarle le donne non la violenza sulle donne perché anche offendere una donna e farle e farle violenza capra allora io concludo il video ricordandovi di iscrivervi al canale perché questa cosa qui la stiamo studiando in maniera molto ma molto oculata volete fare un esposto fatelo avete bisogno di consigli siamo qui vi serve documentazione siamo qui ciao ciao